Ciao ci unicorni! Oggi abbiamo uno special guest, ovvero Andrea, che arriva direttamente da dove? Dalla... 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 Moldavia. Dalla Moldavia. Dalla Moldavia. Volevo che lo dicessi tu. Sì, perché comunque... Dillo tu, perché io mi vergogno, sono stata in Moldavia e non ti ho portato nemmeno un pensierino, così da amici, non mi hanno nemmeno portato una calamita, quelle che si mettono nei frigoriferi. Cioè, pensa un po' a amicizia, amici e vadati in siciliano si dice. Vabbè, ma ne ho dimenticato. Detto questo, dato che parliamo di amici, parliamo di has been hotel e non c'entra niente con l'amicizia. Assolutamente no, però... Però è molto bello, io l'ho visto, lui l'ha visto, a me è piaciuto veramente un sacco. Bello, bello. Mi sono innamorata di alcuni personaggi. Che oggi andremo a disegnare. O comunque proveremo a disegnare. E sono i miei tre, diciamo, preferiti, i nostri preferiti, ovvero Angel Dust e Nifty, o Nifty come la chiamo io. E poi, ovviamente, Alastor, il demone della ragia. Ok, iniziamo da... Angel Dust. Angel Dust, cerchiamo immagini. Angel Dust, ho conosciuto anche il doppiatore, è veramente molto simpatico. Le canzoni meravigliose. Ah! Allora, vediamo se carica, sì. Ragazzi, è leggermente impossibile disegnare Angel Dust. Tre, due. Il tempo non ce n'è, però. No, il tempo, vabbè. Cerchiamo di essere. Appena finiamo, sceleri. Cerchiamo di essere abbastanza veloce. Non mi copiare il disegno. Ma non è quello. Silenzio. Cioè, che devo copiare, scusami. Non mi copiare, ho fatto il laterale. Ma stiamo facendo la stessa cosa, comunque, ti ricordo. Ah! Cioè, tipo, poi vedi, ah, ma anche tu hai fatto Angel Dust, copione! Vabbè. Comunque, allora, non è facile questo farlo. La mia finora è un ananas. Vabbè. Un ananas. Ah, ma io ho fatto solo la testa. Anche perché... Beh, arriviamo a disegnare quello che arriviamo a disegnare. Molto, molto particolare. Per forza non dobbiamo fare tutto il corpo. Vabbè, sì, magari fino a un certo punto, diciamo. Fino alle mani. Le mani, ah mio! No, gli ho fatto... Ma che cos'è, muscoloso? Le mani. Ma quante mani ha? Magi, ecco, giustamente. Sì, Angel Dust ne ha tante. Eh, infatti. E mi sto allevando la vita. Infatti, credo di aver... Uh, ho creato Marge Simpson. Cioè, questo è il corpo di Marge Simpson. È così. Ok, ci siamo. Mancano solo le gambe. Ma che mi stai dicendo? Non ci credo. Ho creato un mostro, non un damone. Le gambe è tipo di una capra. Ah, manca un occhio, però. Ah, ma tu hai fatto pure l'occhio. Vabbè, ma l'occhio mi sembra come... Ma l'occhio, ma l'occhio, ma l'occhio. Ma non maloio, ma l'occhio. Prezzemolo e fno. Mi sembra il minimo l'occhio, no? Il minimo, certo. Eh, penso di aver finito. Aspetta! Io devo fare ancora la faccia. Non mettere fretta alla perfezione. Beh, qua ho sbagliato, manca. Vabbè. Ragazzi, io penso di aver fatto un capolavoro. Vabbè, comunque. Ma dov'è la testa? Ok, io ho finito, terminato. Terminator. Però una cosa un po' più celere, magari. Un attimo, un attimo. Non si mette fretta alla perfezione. Io penso di aver fatto Angel Dust, ma così carì. Vediamo. Allora, io non ho voluto guardare. Ma che carino. 3, 2, 1, via. Via. Vediamo. No, l'ha fatto uguale. Perché? Tu come l'hai fatta? Vediamo. Ma che carino, però. Sembra un, non lo so. Un Pokémon. Pokémon. Angel Dust, scelgo te. Ragazzi. Lasciamola vedere bene. Guardate che cari. Allora, posso dire che mi piace, però. Ha il suo perché. Ragazzi, ha un non so che di meraviglioso. Questo è il mio. Vabbè, dai. Però ha un suo stile particolare. È una rivisitazione. In chiave moderna, diciamo. Scusa, ragazzi, con un secondo, no, no. Cancellare la perfezione, no. Immortaliamo, ok. Immortaci. Ma per sicurezza la faccio indietro perché magari... Carinissimo. Potremmo... Vabbè, Angel Dust è andato. Potremmo metterla nella copertina. Bello. Devo dire, molto bello. Vabbè. Ok, andiamo avanti con... Nif. Andiamo qua indietro. Nif col suo coltello. A prendere l'altro nome. Nifty. Immagini. Eccola qua. Nifty. Quale preferisci? Ah, beh, è uguale. Questa. 3. Ok. 2. Ma bella difficile questa. 1, vabbè, 3, 2... Ehi. Allora, da dove parto? Eh, da dove parto? Eh, da... Dai capelli. Sembra Angel Dust di prima. E che sono veramente... Difficili da disegnare. Quello è molto particolare perché lei ha questo occhio gigante. Eh, ma a volte anche se non sbagli... Oh, ma l'occhio è collegato alla bocca. Sembra che sbagli lo stesso. Allora. Eh, ok. La parte più difficile, credo che l'abbia passata, ma sto sbagliando tutte le proporzioni. Le proporzioni? Che tanto sto riuscendo a disegnare? L'inizio alla testa, ma il corpo è venuto più in basso. Se mi sentite con la voce così, è perché prima c'è caldo, poi c'è umidità. Poi c'è di nuovo caldo. E poi c'è di nuovo umidità. E tutto così a Siracusa. E' venuta tutta storta. Carina. Ma non corrisponde. Non corrispondono le proporzioni, aiuto. E manca il sotto. Oppela. Però, allora, dite la verità. La verità. Ve la ricordate la pubblicità? Dite la verità, sudare fa bene. Ve la ricordate? Che fa bene sudare? Non lo so, sudare fa bene. Ma... Lo diceva in una pubblicità. Ma non lo so, sa. No? Più che altro, sudare serve a regolare la temperatura corporea. Vero? Il corpo si raffredda sudando. Vero? Perché quando fai attività fisica... Io non faccio attività fisica. Ma quando tipo corri, fai qualcosa in palestra, non sudi? Sì. Perché? Perché ti riscaldi, il corpo per abbassare la temperatura, butta fuori i liquidi e si raffredda. Così, perle di scienza mentre disegniamo. Allora... Beh, ho finito? Sì, ho finito. Allora. Tra tre. Due, uno. Due mostri abbiamo fatto. Beh, sono dei mostri comunque, però... Lei è bellissima. Vediamo? Gli avrei messo il coltello. Che cari... No, dai, però... Oh, mi sono dimenticata i disegni nel vestito. Ma stai migliorando, però. Che carina. Ragazzi, questa è la mia... Allora... Vediamo tu? Ti devo dire che la faccia... È più simile alla mia? È più simile alla tua. Dai. Ma tu hai un po' checcolino la mia faccia. Che carina, però. Però stai migliorando. Allora... Dai, io qua il punto... Ah, il primo lui, manca a dire. Dai, lo do a te il punto. Dai, sono obiettivo. Allora siamo pari. Siamo pari. E per ultimo... Ma stai migliorando. Per me è il più importante. Alla storia. Perché nei video precedenti... Lo facevo schifo. Lo puoi vedere. Ma che è successo? Hai fatto un corso di disegno? Beh, beh, beh. Quella vuoi fare? Ah, questo con me è che ti fa? Sì, guarda. Ah, la storia in verticale. E come abbiamo le cose qua? Tre, due, uno. Zoom un po'. Via! Ah! Un saluto a tutti quanti. Potete dirmi dove sono? Aiuto! Come ci si diverte qui? Io ho fatto gli occhi storti, ma va bene. Ma non so. Il mio sembro strafatto. Non so come verrà, sinceramente. Vabbè. Il tuo come ha dei problemi? Tanti, come me. Proprio moltiplicati. E come me? Mi aggiungo. Moltiplicati. Mi aggiungo anch'io. Allora. Io penso di aver fatto quello più brutto in assoluto. Allora, la faccia l'ho fatta. Mi collo. Vabbè, tutto non ci entra, però. No, no, infatti fai... Faccio tipo... Una parte. E io direi... No, questo la devo fare qua. Così, allora. Facciamo questo braccio qua. Con... Si diverte qui Ok Allora direi che ci siamo quasi Insomma Chiudiamo fino a dove arriviamo Fino al vestito perché poi il resto Non ci sta più Così Lo mio sembra che sta facendo un brutto gesto Perché? E poi capirai il perché Allora io ho finito È venuto secondo me un po' bruttino Ho fatto di meglio Vabbè Ma veramente lo volete vedere? 3 2 1 Alla store Aspetta No l'hai fatto carino Vediamo vediamo Il mio è tornato penso da Amsterdam Però è coerente con gli altri due Non so con lo stile Perché io potrei fare in effetti Io potrei fare la fumettista Si Manderei sempre il mio stile Esatto Facciamoli vedere Guardate Allora questo è il mio Alla store Tornato da la Jamaica Questo è il suo che è molto più uguale Dai Votate Facciamo che decidete voi Ha vinto Votate Questo ve lo Uno pari Ma l'ultimo chi ha vinto? Questo ve lo fotografo Perché è meraviglioso Ok Bellissimo Vabbè Vabbè direi che abbiamo fatto I personaggi di Azbi Notelle Non si sa mai Ok Detto questo votate 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 Noi ci vediamo al prossimo video Ciao ragazzi unicorni Ciao Sennò qua dura 20 minuti E poi è troppo lungo Ciao 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 Però devo dire che sei migliorata Nel disegno Secondo me hai fatto un corso Ma voglio mai No No